Ciao a tutti amici di Vanilla. Come promesso nello short video che ho pubblicato ieri, che costituiva una prova di questo nuovo formato di YouTube, oggi parliamo della storia dell'abbandono del villaggio di Kuldara. Prima di farlo chiedo ai tanti spettatori non iscritti di aiutare il nostro progetto di divulgazione culturale, basta un clic sul tasto iscriviti. Grazie mille. Spettrale e solitario come il deserto del Tar che lo circonda, il villaggio abbandonato di Kuldara in India non è inquietante solo per le leggende che lo circondano, ma anche per gli scheletri fangosi delle case lasciate da tutti i suoi abitanti in una sola notte all'inizio dell'Ottocento. Kuldara fu fondata nel XIII secolo, a poca distanza dalla città di Jaisalmir, nel Rajasthan, dai Bramini Paliwal, e divenne con il tempo un florido insediamento composto da 84 villaggi. La popolazione si dedicava all'agricoltura, nonostante l'aridità del territorio, perché usava l'acqua del fiume stagionale Khakni e di alcuni pozzi, ma anche al commercio e ad altre attività che fecero esplodere il nucleo abitativo originario. Poi, una notte del 1825, gli abitanti del villaggio semplicemente scomparvero, lasciandosi alle spalle tutta la loro vita precedente. Per quale motivo una comunità prospera decise di scomparire durante la notte? Un'ipotesi suggerisce che l'approvvigionamento idrico si fosse praticamente esaurito, al punto da indurre gli abitanti a cercare un luogo più adatto alla vita e all'economia della comunità. Questa teoria non spiega però l'abbandono improvviso e furtivo con il favore delle tenebre. Una spiegazione simile teorizza che forse i pozzi furono avvelenati con delle carcasse di animali in putrefazione da misteriosi invasori, che durante la festa religiosa del Raksha Bandhan avrebbero ucciso molti Paliwal. Poi, per indurli ad abbandonare il villaggio, avrebbero contaminato l'acqua, senza la quale era impossibile la sopravvivenza. La teoria, leggenda più accreditata, forse perché vede protagonisti una giovane ragazza innocente e un potente e prevaricatore ministro dello Stato, parla di una fuga necessaria ad evitare l'oppressione del governatore locale, spietato e ingiusto. Il D1 di Jaisal Mir, di nome Salim Singh, vessava gli abitanti del villaggio con la richiesta di gravose imposte, finché posò gli occhi sulla figlia di un capovillaggio, chiedendola in sposa. Viede agli abitanti di Kuldara un solo giorno per decidere, minacciando di aumentare ulteriormente le tasse se il matrimonio fosse stato rifiutato. In segno di fedeltà e rispetto al padre della ragazza, tutta la comunità decise di lasciare il villaggio prima della scadenza delle 24 ore durante la notte, scomparendo per sempre e abbandonando tutto quello per cui avevano lavorato nel corso dei sei secoli precedenti. La leggenda vuole che, prima di andarsene, gli abitanti abbiano lanciato una maledizione che avrebbe impedito a chiunque di abitare a Kuldara, perché a chi avesse sfidato l'anatema sarebbe morto. Mai nessuno so smentire questa leggenda e Kuldara divenne una città fantasma, anche nel senso letterale del termine. Le rovine hanno la fama di essere un luogo infestato e sono un punto di riferimento perché si occupa di attività paranormali. Uno studio del 2017 pubblicato su Current Science suggerisce che Kuldara e altri villaggi vicini, come Kaba, andarono abbandonati e distrutti a causa di un terremoto. Secondo gli autori, le case in rovina di questi villaggi dimostrano gli effetti della devastazione di un forte sisma, con tetti crollati, travi cadute, archi e pilastri distrutti. Tale estesa distruzione non può essere attribuita a normali processi di erosione degli agenti atmosferici. Sia che si tratti di cause naturali o umane, i residenti delle zone vicine non credono affatto alle storie di fantasmi, ma ovviamente le alimentano per incrementare il turismo. E dopo aver visto le storie che circondano l'abbandono di Kuldara, andiamo a vedere da quale città dipendeva e da dove proveriva il Diwan Khe, leggendariamente fu la causa della diaspora dei suoi abitanti. In questa città del Rajasthan in India, nel cuore del deserto del Tar, pulsa di vita il forte di Jaisal Mir, una delle più grandi città fortificate del mondo completamente conservate, grazie alle circa 3.000 persone che risiedono all'interno delle sue mura. Il complesso è anche conosciuto come Sonarchila o Forte Dorato per le sue scintillanti fortificazioni di arenaria color oro e gli edifici che si camuffano nel giallo del deserto. Il forte di Jaisal Mir appare come un miraggio nel deserto sconfinato e, a sorpresa, ospita fra le sue mura di arenaria una fiorente città a cui si accede da quattro diversi ingressi, uno dei quali sorvegliato da un cannone. Il forte fu costruito nel 1156 dal re Rawal Jaisal, che voleva fondare una nuova capitale perché quella precedente, l'Odurba, era troppo vulnerabile. Nel Medioevo il forte di Jaisal Mir fu un importante centro di scambi commerciali tra l'India e il mondo arabo, una comoda stazione di sosta per le carovane e i viaggiatori che percorrevano la Via della Seta. Durante il dominio britannico, l'incremento del commercio marittimo e lo sviluppo del porto di Bombay portarono al graduale declino economico della città fortificata, che perse il suo antico splendore. Nel corso dei secoli il forte di Jaisal Mir dovette affrontare molte battaglie e contrastare diverse invasioni. Nel XIII secolo, Alaud Din Kili si impadronì del forte che per nove anni rimase in suo possesso. Nel 1541 l'imperatore Amayun della dinastia Mogul aggredì la città, che rimase sotto il controllo della famiglia fino al 1762, quando Marawal Murrai ne prese il possesso. Alla fine della dominazione britannica, l'antica via commerciale fu definitivamente abbandonata e la città è diventata un'importante metà turistica, grazie alle sue meraviglie architettoniche, come il Palazzo Reale, il Tempio Laxminat e i Templi Gianisti. All'interno del forte ci sono molte affascinanti avelli, grandi case di ricchi mercanti, dai molti piani e dalle innumerevoli stanze, con preziose decorazioni che abbelliscono finestre, archi, porte e balconi. Alcune di queste vecchie abitazioni sono oggi musei, ma la maggior parte ancora abitate dai discendenti delle famiglie che le costruirono. Purtroppo però l'aumento dei residenti e delle attività commerciali legate al turismo mettono a rischio il forte, che dal 2013 è sottoposto a tutela come patrimonio dell'umanità Unesco. Nonostante i numerosi interventi, troppo spesso scordinati fra loro, il forte è in lento decadimento, nonostante sia ancora oggi la meta di oltre 600.000 visitatori anni. Se Jaisal Mir vuole essere salvata, è necessario prevedere uno sviluppo del turismo sostenibile che consenta a questa antichissima città fortificata di sopravvivere all'incedere del tempo e alla curiosità dell'uomo.